...e le strade erano pieni da grado di Gerber... ...e loro, quegli uomini dai nomi strani, portavano novità nella metallurgia, nell'art, nella letteratura... ...sì, anche nella grande letteratura, perché quegli uomini del nord avevano letto le pagine della letteratura classica... ...e l'avevano elaborata. ...e l'avevano popolata di eroi vincini dai nomi strani... ...sì, figli, 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 portali, mostri, ghiacci, donne indistruttibili, ma pure portali...